Sono stati eseguiti interventi di sostituzione e pose in opera di attrezzature ludiche in otto aree verdi della città e delle frazioni. Lo rendono noto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore all'ambiente alla valorizzazione delle aree verdi e dei parchi Emanuele Imprudente. Le nuove attrezzature ludiche, hanno dichiarato il sindaco Biondi e l'assessore Imprudente, sono state allestite nelle aree verdi della Villetta, a Fonte Cerreto e nella città dell'Aquila, sia in Piazza Cifani che nel quartiere di Pettino e nelle frazioni di Camarda, Monticchio, Canzatessa, Aragno e Di Roio. Il rifacimento di queste aree giochi consentirà una fruizione da parte dei piccoli in perfetta sicurezza. Si tratta di interventi che rientrano nelle linee prioritarie dell'amministrazione comunale. Un'attenzione particolare, infatti, è stata riservata alle aree verdi pubblico attrezzato, soprattutto in riferimento ai parchi giochi, per l'importante funzione sociale e aggregativa per il valore in termini di aree verdi urbani, che si traducono in elementi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Riteniamo prioritario restituire adeguati standard qualitativi delle frazioni, troppo spesso dimenticate in passato, a cominciare dagli incentivi alle politiche ambientali.